La spiegazione del finale di Sound of Freedom, uno dei film più chiacchierati dell'ultimo anno. Ciao, sono Valerio Novara, in questo video vi parlerò ancora una volta di Sound of Freedom, il film uscito l'estate scorsa che ha dato del filo da torcere ai grandi film come Oppenheimer, Barbie, ma soprattutto Mission Impossible di Tom Cruise, anche perché è un film che piano piano si è fatto notare e ha fatto parlare moltissimo per l'argomento trattato sulla tratta dei bambini e che in questo video cercheremo un attimo di spiegare, soprattutto con dei riferimenti al finale del film. Se non avete ancora visto il film ci saranno spoiler, quindi vi consiglio di tornare quando l'avrete visto, anche perché in questi giorni è al cinema, cercate la sala più vicina per andarlo a vedere, perché è un film che merita di essere visto. Il protagonista del film è Jim Caviezel, lo avevamo già visto nella Passione di Cristo di Mel Gibson, in questo film interpreta Tim Ballard, un vero agente del Dipartimento della Sicurezza degli Stati Uniti che riesce a salvare tantissime vite di bambini in Colombia. Nel film il protagonista salva questo ragazzo di nome Miguel che era stato rapito, ma c'è ancora la sorella di questo bambino, Rosio, che è ancora in mano ai trafficanti di esseri umani in Colombia. Ecco, Tim promette a Miguel di salvare la sorella e su questa promessa si basa tutto l'arco del film. Tim arriva addirittura a dimettersi dal Dipartimento per la Sicurezza degli Stati Uniti dopo che il capo gli ordina di tornare in patria, ma lui si rifiuta, determinato a fare l'impossibile per salvare la vita di questa bambina. Poco prima del finale del film, Tim Ballard riesce a rintracciare questa donna, Katie Giselle, che ha rapito Miguel e Rosio in Colombia. Qui incontra Vampiro, un altro personaggio di Sound of Freedom basato su una persona che esiste veramente. Grazie all'aiuto della polizia colombiana, i due riescono a trovare un modo per infiltrarsi nel luogo dove si nasconderebbe questa Katie Giselle. Riescono a salvare 54 bambini, ma non riescono a trovare Rosio. Tim Ballard però aveva una promessa da mantenere. Vieni a sapere che la bambina è stata venduta alle forze armate rivoluzionari e colombiane. Il problema è che il luogo dove si troverebbe la bambina si trova al di fuori della giurisdizione della polizia colombiana. Tim e Vampiro si fingono quindi dei medici per riuscire a infiltrarsi in questa zona. Quando i due tentano di entrare, i ribelli concedono l'accesso solo a uno di loro. Quando Tim scopre che la bambina si trova con El Alacran, uno dei leader ribelli, lo uccide. Dopo una sparatoria con gli altri membri del clan, Tim riesce a salvare la bambina e a portarla in salvo. Alla fine riesce a completare la sua missione e riportare la bambina da suo padre e Miguel. Ma perché Tim Ballard ha lasciato il lavoro per salvare Rosio? Ecco, questa è una delle domande più frequenti e cercheremo di spiegarvi nel dettaglio ogni sfaccettatura del finale di questo film. Certo, Sound of Freedom è stato realizzato per portare all'attenzione di tutto il mondo un problema così grave come quello del traffico dei minori, ma anche per parlare della storia di Tim Ballard. Ebbene, il fatto che abbia abbandonato il lavoro per rischiare il tutto per tutto e salvare questi bambini è avvenuto davvero. L'interazione con Miguel è ciò che lo ha spinto poi a continuare il suo lavoro per salvare questi bambini e ha scoperto delle realtà davvero terrificanti durante la sua permanenza in Colombia. Solo che una volta lì il suo capo blocca tutto e gli ordina di tornare a casa. Lì c'è stato il vero punto di rottura di Tim Ballard perché lui si rifiuta e decide di continuare a costo di perdere un lavoro come quello della sicurezza nazionale che è il cosiddetto lavoro della vita. Incoraggiato anche da sua moglie, Tim lascia il lavoro per salvare i bambini, è determinato a portare a termine la sua missione e salvarli tutti. Anche perché uno dei motti di questo film è quello che dice Tim Ballard, cioè i figli di Dio non sono in vendita. Ed è stata anche la forza trainante che gli ha permesso di far tornare a casa così tanti bambini. Il finale del film contiene anche un epilogo che spiega cosa è successo a Tim Ballard dopo che ha portato in salvo Rosio. Il suo obiettivo è tornare negli Stati Uniti per far approvare leggi che consentano ai diversi stati, ai diversi governi di comunicare tra di loro quando ci sono problemi di questo tipo. D'altronde uno dei problemi principali che dovette affrontare il vero Tim Ballard quando si trovava in Colombia è che essendo al di fuori della giurisdizione degli Stati Uniti non si comunicava e non c'era modo di poter aiutare questi bambini se non infiltrandosi come hanno fatto i protagonisti del film. Dopo l'operazione in Colombia e la testimonianza davanti al congresso degli USA, Tim fonda l'operazione Underground Railroad nel 2013. Un'organizzazione che si occupa proprio del traffico degli esseri umani e che esiste veramente. Anche perché, lo raccontavamo in un video precedente, il film è stato prodotto dalla società indipendente Angel Studios che si è occupata anche di The Chosen, la serie su Gesù Cristo che trovate su Netflix, ma anche di tantissimi altri prodotti alla base dei quali c'è la fede. Pensate che ha incassato 14 milioni di dollari nei primi giorni quando è uscito nel luglio 2023, scalzando anche la concorrenza di film come anticipavamo, come Mission Impossible, e dando del filo da torcere ai vari Oppenheimer e Barbie. Si parlava dietro questo film della teoria cospirazionista di QAnon, alla base della quale ci sarebbe una cospirazione mondiale che punterebbe a nascondere questo traffico di esseri umani e, se volete saperne di più, andate a vedere il video che avevo fatto su questo argomento dove spiego da dove nasce questa teoria e il fatto che comunque in questo film non viene mai accennata questa teoria, ma ognuno è libero ed è doveroso farsi la propria opinione su questo argomento. Ma qual è il vero significato di Sound of Freedom? Diciamo che la frase che racchiude tutto il film è il fare la cosa giusta. Un tema semplice ma efficace. Ovviamente il primo obiettivo era porre fine a questo traffico di persone, traffico di minori in particolare, ma non c'è dubbio che uno dei temi fondamentali del film sia il fatto che il protagonista abbia addirittura lasciato il lavoro e sia rimasto lì contro tutto e tutti per portare a termine l'obiettivo. Per la maggior parte delle persone la sicurezza del lavoro è una priorità nella vita. Ma Tim l'ha sacrificata perché sapeva che trovare Rosio e salvare quei bambini era la cosa più importante da fare in quel momento della sua vita. Sound of Freedom dimostra che fidarsi del proprio intuito è la scelta giusta a qualunque costo, soprattutto quando questo ci aiuta a fare luce su uno dei temi di cui purtroppo si parla troppo poco in tv e sui giornali. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo film, se lo avete rivisto al cinema e nei commenti scrivetemi cosa vi ha lasciato e cosa ne pensate sui temi trattati. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, c'è a creazione, seguiteci su Facebook, Instagram e TikTok dove tutti i giorni parliamo di cinema e serie tv. Al prossimo video!